Risse tra giovani, il capoluogo di regione ne ha fatte registrare diverse negli ultimi tempi il sabato pomeriggio, ma anche il controllo del territorio, il riferimento soprattutto all'ondata di furti che nell'ultimo periodo sta interessando a Vezzano e più in generale la Marsica. Furti e tentati furti che già erano iniziati a dicembre, ma che a gennaio hanno avuto un'escalation costante, tanto da assumere i contorni di una vera e propria emergenza sociale. Temi snocciolati nella riunione di stamattina all'Aquila in Prefettura del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, coordinato dal prefetto Cinzia Torraco, allo scopo di fare il punto della situazione e capire quali misure poter mettere in atto per aumentare la sicurezza. Riunione dedicata all'esame della sicurezza urbana in provincia, ma anche ad alcuni episodi di intemperanze registrati tra le fasce della popolazione giovanile. All'incontro hanno partecipato anche il presidente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Ceciliano Grigzano, il questore dell'Aquila, comandanti provinciali di Carabiniere e Finanza, assessori dei comuni dell'Aquila, Vezzano e Sulmona, con rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Provinciale, delle categorie economiche e dell'artigianato. Sul tema dei giovani, rappresentanti dei comuni si sono resi disponibili a coordinare una rete di programmazione integrata che possa offrire ai ragazzi più possibilità di iniziative da organizzare a loro favore. Sul tema dei controlli, il prefetto e i vertici delle forze dell'ordine hanno posto l'attenzione sui capillari e quotidiani controlli del territorio, che hanno predisposto da tempo, soprattutto nel fine settimana e nelle ore più a rischio. Sul tema della videosorveglianza urbana, il prefetto evidenziato come prefetture e comune dell'Aquila in particolare stiano lavorando in sinergia per il patto L'Aquila Sicura. Ma il tema più caldo ora sono i furti nella marzi, che a gennaio è stato un mese nero, ma anche febbraio è iniziato nel peggiore dei modi. Furti in abitazioni private e anche in attività commerciale ad Avezzano, Celano e zone limitrofe, ai danni di bar, boutique, negozi di abbigliamento, ferramenta e ristoranti, cospaccate alle vetrine. I ma viventi da settimane tengono sotto scacco la città e il problema è diventato insostenibile. Del resto quello dei furti è uno dei reati predatori più brutti e sentiti per la popolazione e per chi ha attività. Sono cicli in genere, prima era stata la volta della valle su Bequana, ma anche l'Aquila non è immune. Potenziare i controlli sicuramente è la parola d'ordine. In realtà nelle ultime settimane le forze dell'ordine hanno predisposto dei servizi ad hoc. Nei giorni scorsi gli abitanti del quartiere San Rocco ad Avezzano, uno dei più colpiti dall'ondata di furti, avevano invocato maggiori controlli. Da parte della popolazione c'è una costante richiesta di bloccare questa microcriminalità che sta rendendo insopportabile la situazione davvero per tutti, sia per quello che riguarda i furti che per le risse nei centri storici tra ragazzi.